Grazie. 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 Est知識 preached. I think it's a tragedy. We feel very badly for all the families. And for all the families, not just the American families. We certainly wish that this didn't happen. I've been very impressed with the amount of help e il lavoro che tutti i servizi hanno fatto qui in Giglio. E io vedo che tutti si preoccupano molto, e io parlo per gli Stati Uniti, siamo molto grattati per tutto l'efforto che è stato fatto per cercare di recuperare, o trovare le loro perdono. Grazie.